Il bequadro. Ecco che siamo arrivati a fare la conoscenza di questo terzo simbolino, il bequadro, che per l'appunto si scrive in questo modo. Allora, come per i diesis e i bemolli, il bequadro lo troviamo scritto accanto alla nota. Ma qual è il potere di questo simbolo? Qual è l'effetto del bequadro? L'effetto del bequadro è annullare i diesis o i bemolli che ci sono, che ci sono stati o che sono scritti all'inizio del pentagramma. Cosa vuol dire? Prima di spiegare cosa vuol dire, dobbiamo parlare di una piccola regola della scrittura musicale. La regola che dice che se io vedo un diesis oppure un bemolle, è esattamente la stessa cosa, accanto a una nota, fino a che non finisce la battuta, se io ho altre note uguali a quella che era diesis, sarà diesis anche lei. Cioè, in questa nota, in questa battuta della mano destra, io ho da suonare mi re mi re mi re mi. Il primo dei re è diesis. Questo vuol dire che dovrò suonare anche questo re diesis e anche questo re diesis. Finita la battuta, l'effetto svanisce. Quindi, se ci fossero altri re, io li suonerei sul tasto bianco, li suonerei naturali. Ma finché siamo all'interno della battuta, cioè finché non arriva la stanghetta, questo diesis ha effetto anche sulle note che vengono dopo, soltanto su quelle uguali. Questo è un re, per cui ha effetto soltanto sul re. Ci sono anche dei mi, ma i mi rimangono tranquilli sul loro tasto bianco. Oppure, cosa può succedere? Anche, ecco qua. Noi qui abbiamo, all'inizio del pentagramma, ora non preoccupiamoci, ci sono tre bemolli, ma è una cosa che un po' con il tempo arriveremo a fare tranquillamente. Questi tre bemolli sono scritti sulla linea del SI, sullo spazio del MI e sullo spazio del LA. Questo mi vuol dire che ogni SI, ogni MI e ogni LA che io trovo nel corso di questo brano dovrò suonarli bemolli, cioè sul tasto nero a sinistra. Ma non è sempre così. Io vedo che questo SI ha scritto accanto un bequadro. Cosa vuol dire? Che io allora questo SI non lo suonerò sul tasto nero come mi dice questo bemolle, ma lo suonerò sul tasto bianco, perché in questo caso, in questo punto, il tasto nero non ci vuole, ma ci vuole il bianco, proprio perché c'è scritto il bequadro che annulla l'effetto del bemolle. Quindi, delle note, come in questo esempio, o come in questo esempio. La prima è naturale, quindi tasto bianco. La seconda ha un diesis e quindi io so che devo suonarla così, sul tasto nero a destra. Appare nella nota successiva il bequadro e quindi mi fa tornare di nuovo sul tasto bianco. La stessa cosa vale anche per il bemolle. Un MI naturale sul tasto bianco. Un MI bemolle, che quindi suonerò sul tasto nero a sinistra, e di nuovo, grazie al bequadro, un MI naturale. MI, MI bemolle, MI naturale. MI, 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 MI. Grazie. Grazie.